ciao a tutti amici bentornati sui sonzo oggi vorrei provare con voi una mappa montengo una nuova mappa in cui ci saranno nuove bestemmie e a parte scherzi è un gioco in continuo movimento in continuo aggiornamento nonostante ci siano commenti credendo che sia un gioco morto io credo che più che altro più che un gioco morto sia un gioco per una comunità un po' piccola dove però continuando ad aggiornare penso che si possa sicuramente migliorare l'esperienza di gioco per me se vi piace la prima guerra mondiale e soprattutto se vi piace questo fronte perchè non provarlo sarebbe un grande peccato non provarlo e quindi io ho sempre consigliato questo gioco poi è ovvio deve piacere il tipo di gameplay il tipo di giocatori se stai con amici è sempre meglio cioè vedete o vi piace o non vi piace poi è ovvio dando dei video non è sempre così facilmente capibile come può essere un'esperienza di gioco come può essere un'esperienza di gioco per quanto non non possa essere madonna ma questa fangua stronza adesso muoio adesso muoio no no madonna e niente comunque non è affatto male questa mappa devo dire la verità non sembra affatto male uh lucemo a uccider qualcuno Noto Onto a 9 bestemmie Maggiore fluidità Qua c'è qualcuno Annota Marco Vedo una difesa Particolare Non voglio di niente Stiamo vincendo questa battaglia Non voglio dire Bastantone Fangumo stronzo Madonna Oh 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 Ganata ganata Ho visto una ganata Mamma mia Mamma mia All'attacco All'attacco in cazzo Oh oh Che mi ha ucciso Non c'è nessuno Che mi ha ucciso Adesso muoio Adesso muoio Adesso muoio Oh 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 hoAnca M'ho peso Siii Acqua è un bastardone Questi mi spagano Giustamente A sto punto è meglio tornare indietro Che fai? Sento qualcuno Torniamo indietro va Fanguno Cerchiamo di distruggermi Anzi Io voglio capire di chi è questa artiglieria Sei il nostro o sei il nemico Non te capisci Cazzo Costruisci Ho capito di chi era Va bene Va bene Vai Vai così Vai così Va benissimo Vabbè se perdiamo in questo modo Becero Per favore Togliti Devo dire che È una mappa molto carina Ti piace Se c'hai una buona squadra Se Ti ammonti Ti vincolette Poi sia vince Che difenderti bene qua Perché ci sono buoni Spazi Se può sapere chi spari Ah Scusa Sotterra Scusa Non volevo Avetevi I copi di trinzea Va bene Ragazzi Devo dire Mi è piaciuta parecchio Una bella mappa Il gioco è più fluido Mi piace Mi piace Mi piace Ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Questo è un altro Nerds Expronorm Sui Sonzo Abbiamo scoperto questa Mappa chiamata Montello Sponso che vi sia piaciuta Noi ci vediamo Su un prossimo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo